Due cacciabombardieri statunitensi hanno sganciato quattro bombe sulla grande barriera Corallina, patrimonio dell'umanità a largo del Queensland in Australia. I due Harrier impegnati in un'esercitazione avrebbero dovuto sganciare gli ordini non armati su un'isoletta che però non sono riusciti a raggiungere. A corto di carburante hanno dovuto liberarsi del sovrappeso. La marina statunitense assicura l'assenza di danni ambientali.